we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi mamma mia che cosa sto a dirvi lo sappiamo tutti un enorme occhio è apparso nella grotta di picco polare ragazzi incredibile non ce lo aspettavamo anche se nel video di ieri mattina abbiamo visto il render ufficiale dell'occhio trovato nel file di gioco beh vederselo davanti in 3d è tutta un'altra cosa non ci aspettavamo davvero che fosse così enorme nel video di oggi però ragazzi le novità non sono finite e per questo parleremo ovviamente dell'update 9.10 quindi l'aggiornamento che verrà proposto questa mattina intorno alle 8 e mezza se non ricordo male ragazzi qualcosa del genere comunque non molto tardi che ci farà che ci darà degli aggiornamenti ovviamente extra tra cui l'arrivo della nuova arma la mitraglietta abbiamo finalmente i dati relativi al danno e alla velocità e a tante altre cose relative alla nuova mitraglia nonché uno spezzone di gameplay e delle immagini ad alta definizione e ovviamente occhio al picco perché voglio farvi vedere delle immagini sempre trovate nei file di gioco super super curiose ma prima ringrazio tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xyuderone per scioppazzare prepotentemente nello shop grazie di cuore raga per iscrivervi al canale e mi raccomando non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live prima però ragazzi del video la domandina ve la ve la devo fare raga ieri mi avete risposto in tantissimi e vi ringrazio un sacco per commentare sempre qua sotto domandina di oggi leggermente nostalgica ragazzi ma preferisci pinnacoli o neo inclinata raga ditemi un pochettino quale delle due preferite è una domanda che uno di voi mi ha fatto ieri in live mi è piaciuta tanto e ho deciso di portarvela mi piace ne ho inclinata però cio pinnacoli qua raga cio pinna voglio rivoglio pinna mi piaceva troppo pinnacoli mi piaceva troppo ditemi qual è la vostra preferita qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance eccolo qua ragazzi direttamente dalla pagina twitter ufficiale di fortnite burst into the action e burst ragazzi non è assolutamente un eufemismo ma è qualcosa che sta per arrivare quindi buttati nell'azione l'aggiornamento alla patch 9.10 è il tweet ovviamente di ieri quindi arriva oggi sì alle 8 am in teoria adesso io non so esternet time alle 8 adesso non so alle 12 comunque ragazzi arriverà questa mattina il problema è che non servirà nessun download e nessun downtime quindi vuol dire che non ci saranno grossi leaks per quanto riguarda i prossimi giorni probabilmente invece mercoledì prossimo o martedì quando arriverà la patch 9.20 probabilmente avremo invece tutte le novità le nuove skin e speriamo roba extra tra l'altro perché dicevano burst into action beh lo vedete alle mie spalle ragazzi si parla ovviamente della nuova mitraglia che è praticamente confermato arrivi oggi con l'aggiornamento lo sappiamo ragazzi questa mitraglia ha la caratteristica di sparare come il fucile mi sfugge il nome non c'era la r ma c'era lo quello che sparava a raffiche in poche parole porca miseria c'è un buco raga il vampa il vampa fucile lo stesso metodo di sparo ragazzi quindi a raffiche e abbiamo anche dei dati interessantissimi questi ragazzi sono in realtà i dati relativi valori relativi alla nuova mitraglia danno 23 il che vuol dire che se spara una raffica da 3 colpi potremmo fargli un ottimo danno da 69 non è male 3.4 il fire rate e 20 colpi nel caricatore quindi comunque le raffiche sono comunque costanti e possono essere sparate per un bel po di tempo abbiamo un range di 4 e un tempo di ricarica di 2,4 secondi sappiamo che ovviamente essendo una mitraglietta utilizzerà le munizioni leggere e il danno alle strutture sarà 23 il massimo cioè il danno alla massima distanza sarà di 9.2 ma è solo nella media distanza che a quanto ci dicono farà 16 quindi ragazzi tanta tanta roba al long range invece di nuovo 9.2 non vediamo ovviamente l'ora di vederla abbiamo però qualche immagine di già in alta definizione come vi anticipavo molto carina come come mitraglia poi vabbè con la skin di arc la copertura di arc è davvero ancora più bella e guardate un pochettino che linee quando corre la tiene con una mano qua addirittura nel momento dell'estrazione però non penso che utilizzi due mani per sparare adesso lo vedremo abbiamo come vi anticipavo qualche secondo di gameplay non ho più di questo ragazzi voglio anche farvi sentire l'audio la tiene con due mani una davanti e una sul grilletto e sentite qua tre colpi come vi avevo anticipato ragazzi tre colpi alla volta per questa nuova mitraglietta ma andiamo avanti ragazzi ed eccolo qua ovviamente la notizia sulla bocca di tutti il gigantesco occhio che è apparso ieri pomeriggio nella grotta di picco polare e ragazzi è l'inizio anzi è la fase 2 dell'evento di picco polare il primo la prima fase è stata terremoto con sbriciolamento del ghiaccio la seconda fase che è questa è l'occhio gigante e tra l'altro occhio che era già annunciato nell'immagine dei fort white nel puzzle quello che pensavamo in basso a sinistra fosse in realtà l'oggetto di sponde del saccheggio in realtà era proprio l'occhio che stiamo vedendo tutti a picco ma la domanda è di che cos'è quest'occhio è una creatura è solo un occhio non lo sappiamo ovviamente si pensava ragazzi che fosse molto simile al kraken quindi il piccone nautilus che già apparse nella season scorsa se non ricordo male nella season 8 potrebbe essere un indizio anche perché se ci ricordiamo bene proprio l'intro della season faceva vedere mi sposto io proprio di qua lo stesso identico mostro marino ma non avrebbe molto senso perché in realtà è nel ghiaccio e questo è un mostro marino quindi in realtà sappiamo che l'evento ragazzi si chiama cattus si chiama cattus in latino vuol dire gatto però non saprei neanche cos'è un gatto gigante ragazzi non lo so però questa immagine è molto curiosa perché se andiamo a vedere nel render quindi siamo direttamente nei file di gioco come vedete l'occhio ha due pupille ragazzi guardate la freccia verde se seguitela fino all'immagine la vedete che c'è un'altra pupilla dietro ed è davvero strana questa cosa tra l'altro vi posso confermare che quello che stiamo vedendo in game è l'occhio sinistro di qualunque cosa sia ve lo confermo perché se andiamo direttamente nelle stringhe di codice l'immagine o meglio il modello in 3d che stiamo vedendo dell'occhio è chiamato left eye quindi occhio sinistro questo vuol dire ragazzi che molto probabilmente arriverà anche un occhio destro e la creatura che ne uscirà sarà un qualcosa di incredibile ragazzi che dire aspettiamo adesso fra poche ore l'update per vedere se in realtà verranno modificate delle cose qualora ci fossero vi ricordo nella pagina instagram mia troverete in tempo reale tutti i leaks io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando iscrivetevi al canale e non dimenticate di di passarvi in live alle 13 ciao 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 ciao